Stiamo già lavorando a un piano di viabilità alternativa evidentemente e quindi questo verrà messo in essere già nelle prossime ore e non appena vengono individuati esattamente tutti i flussi. La ferrovia, ci siamo sentiti ovviamente sia all'unità di crisi aperta a Roma sia direttamente con l'amministratore dell'Auto Iacono. La ferrovia è sostanzialmente ripristinata nelle due direttrici principali che hanno stati interrotte, cioè verso Savona Ventimiglia e verso Milano. Il verso Milano al momento è a binario unico, ma contiamo di ripristinarla. Nelle prossime ore, per quanto riguarda ovviamente le cause, non stanno a dire nulla, ma nelle prossime ore ci saranno tutte le verifiche e poi tutto quello che ovviamente seguire il tasto di queste dimensioni.